Torna anche quest'anno la giornata nazionale delle famiglie al museo promossa dall'associazione famiglie al museo. Domenica 14 ottobre per l'intera giornata 800 musei italiani saranno accessibili alle famiglie che potranno partecipare alle iniziative speciali e seguire le numerose visite didattiche. Collegata con noi da Genova c'è Elisa Rosa che è l'idiatrice del progetto. Buonasera, benvenuta a Renews24. Buonasera, buonasera a tutti. Allora subito la prima domanda non può che essere se ci dice quali sono le novità di quest'anno a partire dal tema. Ecco certo, tre sono le novità di quest'anno. Innanzitutto il tema, ogni anno noi proponiamo ai musei di prendere ispirazione per organizzare le loro attività a un tema specifico. Quest'anno il tema è piccolo ma prezioso, quindi un tema dedicato ai bambini, piccoli ma preziosi, ma vogliamo anche valorizzare la partecipazione dei moltissimi piccoli musei che ogni anno aderiscono alla nostra manifestazione. In Italia i piccoli musei sono tantissimi e hanno veramente un rapporto privilegiato col territorio che non dobbiamo dimenticarci. Quindi mi invitiamo anche domenica a non andare solamente nei musei più famosi ma anche in quelli più piccoli. Una seconda novità è l'inaugurazione. Ogni anno facciamo un evento a porte chiuse che si svolgerà sabato, questo sabato, che sarà seguito anche da Rai News 24 e questo evento lo facciamo in un museo piccolo ma preziosissimo a Torino che è il Museo Musli, il museo della scuola e della letteratura per l'infanzia. Una terza novità è che quest'anno FAMU celebra anch'essa l'anno europeo del patrimonio culturale. Sappiamo che quest'anno è un anno speciale per la cultura e infatti anche la manifestazione è inserita nel palinsesto degli eventi che celebrano questo anno particolare. Senta, visto che lei ci parla da Genova, c'è qualcosa di particolare previsto in questa città? Ecco, certo. I musei di Genova hanno da sempre, fin dalla sua prima edizione, quest'anno è già il sesto anno che viene organizzato FAMU, ha diritto in maniera molto attiva e quest'anno in quasi tutti i musei civici di Genova sarà possibile acquistare anche le magliette Genova nel cuore, le magliette che il comune di Genova vende proprio per le vittime della caduta del Ponte Morandi. Dico questo perché appunto sono genovese e ci tengo e quindi invito anche le famiglie che non sono di Genova magari a collere l'occasione di FAMU per andare a visitare questa bella città che in questo momento ha bisogno di molto incoraggiamento, credo. E allora, per chi vuole venire a visitare Genova proprio domenica 14 ottobre, per tutti coloro che vogliono informazioni invece sui singoli musei che sono appunto disseminati sul nostro territorio, come si fa ad avere queste informazioni? Ce lo spiega? Sì, allora si va sul sito ufficiale dell'iniziativa, i musei sono 800, quindi veramente sono distribuiti in tutta Italia. Si va su www.famiglialmuseo.it, voce di menu sono famiglia e poi si può fare una ricerca per città, provincia oppure regione e sono schedate tutte le attività che saranno proposte domenica. Alcune saranno gratuite, alcune a ingresso ridotto, ma comunque ce n'è di tutti i gusti e moltissime saranno proprio su questo tema, piccolo ma prezioso. Allora, buon lavoro a Delisa Rosa, ideatrice del progetto e ci risentiamo e ci aggiorneremo per domenica 14 ottobre in questi 800 musei italiani coinvolti nella giornata nazionale delle famiglie. Al museo, grazie per essere stata a Red News. Grazie a lei, arrivederci.